e siamo live. Ciao Simone. Ciao Fabrizio e ciao a tutti quanti. Ciao a tutti quanti e benvenuti a questo appuntamento con Foto in Compagnia. Oggi parleremo di geometria e fotografia. Questo rapporto, questo connubio che si crea e lo troviamo costantemente, diciamo, no? Frequentemente. Che dici Simone? Io dico che sono un malato nel senso che vado sempre alla ricerca di linee geometrie in una composizione fotografica anche perché non essendo appassionato di fotografia naturalistica, fotografo sempre in contesti urbani, quindi è facilissimo trovare delle linee geometrie, cioè persino la mia stessa inquadratura che vedo sul monitor ha delle linee, cioè l'inquadratura sfruttando le linee penso che sia una delle forze proprio delle fotografie fatte in contesti urbani, quindi penso che tutti quanti ci siamo approcciati a questo elemento da inserire. Infatti quello che vogliamo proporre oggi è solamente la prima di una delle puntate che vorremmo dedicare a questo argomento. È un argomento argomento abbastanza ampio, nel senso è come il bianco e il nero, cioè è un capitolo che non riuscirai mai a finire di scrivere. E dato che comunque tutti quanti stiamo in città, abbiamo tutti quanti la possibilità appunto di scattare con questi elementi qua. Quindi oggi vorrei presentare alcune foto, e vabbè presenteremo anche alcune foto di Fabrizio, alcune foto nostre, in cui abbiamo utilizzato l'elemento geometrico all'interno della composizione. In alcuni casi addirittura c'è solo un elemento geometrico. Sì. Però questo è come il nostro occhio ha voluto sfruttare questo elemento. Quindi vogliamo affrontare l'argomento e chiedervi anche se nelle prossime puntate volete mandarci qualche foto, perché ovviamente dei punti di vista diversi per utilizzare le geometrie in maniera diversa, atipica, originale, possono aiutarci a trovare degli spunti nuovi a tutti quanti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro invitiamo, salutiamo le persone che si stanno collegando, vi invitiamo a condividere la live così da chiamare persone, sempre più persone, a partecipare a queste nostre dirette. E vi invitiamo, come ha detto il buon Simone, ad inviare le vostre fotografie così da commentarle insieme e magari vi inviteremo nelle nostre dirette appunto per partecipare. Simo, una domanda, ma in natura, senza l'intervento dell'uomo, quante geometrie può capitare di trovare? Ce ne sono? È molto più difficile trovarle, molto più difficile, ci mancherebbe, cioè si possono trovare, però penso addirittura a degli scatti di Franco Fontana, che comunque avevano delle geometrie e che facevano una composizione a fasce con vari colori del terreno fino a usare anche il cielo come un'ulteriore fascia e addirittura le nuvole. Quelle erano piantagioni, quindi un minimo di intervento dell'uomo c'era? Sì, però diciamo comunque ti trovi in un contesto non urbano, certo. Belle pure foto, spettacolari. Sono andato a una mostra a Torino, quando sono stato a Torino diversi anni fa, cosa bella, stavo con amici e c'era la mostra di Franco Fontana. Io ho detto ciao a tutti quanti, a meno che, venite con me, io vado assolutamente. Belle, 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 mamma mia, veramente foto spettacolari, veramente foto spettacolari. Allora, io direi, mandiamo la sigla e poi ci ritroviamo qua tra qualche secondo. Mandiamo la sigla e iniziamo. Dai. Ed eccoci qui, ed eccoci qui, cominciamo salutando la fedelissima Anna Anselmi, possiamo definirla così, perché si collega sempre. Ciao Anna, buonasera a te, buonasera anche a Francesco Sala, anche lui super fedelissimo. Ciao Francesco. Che ho notato, come ci colleghiamo, mette subito like, subito che interviene, proprio fan, fan fedelissimo. Allora, Simo, io direi, bando alle ciancue, come dicono. Assolutamente, presentiamo le nostre foto, anzi, se Francesco e Anna, per esempio, vogliono poi, di colore, chiunque altro sta partecipando, ci sta vedendo, vuole commentare le nostre foto. Ragazzi, presentate le vostre critiche, qui nessuno è inattaccabile, mi raccomando. Allora, Simo, io vorrei, saluto anche Giacomo Poggianti, stasera sono puntuale, ciao, ciao a te. Ciao Giacomo, hai fatto bene, puntualissimo. Un saluto anche ad Antonio, buonasera a te. Ciao Antonio. Io vorrei dire una cosa, Simo, come dice sempre Luciano, qua nessuno si crede maestro o cose del genere, noi amiamo ricevere critiche, amiamo ricevere i pareri e amiamo l'interazione, quindi non siate timidi, sia nel inviarci le vostre foto, sia nel commentare le nostre, non siete timidi, non lesinate, quindi fate come se fosse a casa vostra. Non è come la live di ieri che avevamo le foto di Bresson, non è questo il caso. La live di Bresson sulle live dei maestri, io non metterei le foto mie, però se... No, no, non ci penso per niente a metterle vicine, una a fianco all'altra, no, no, grazie. Un saluto anche a Daniela, buonasera a te, benvenuta. Allora, cominciamo a parlare... vai. Allora, geometria e fotografia, ricordiamo che questo è il tema della puntata odierna, geometria e fotografia, Simone, a te la palla, la foto è la tua. Allora, questa foto è mia, l'ho fatta al Maxi, specifico l'anno nel 2011, perché? Perché questo qua, innanzitutto, è l'atrio del Maxi, quindi sulla sinistra c'è la biglietteria e il desk con cui si fanno i biglietti. Questa qua l'ho fatta nel 2011, ho presentato questa, perché ci sono quelle due installazioni di quei tubi rossi che non ci sono più ormai, ed è una combinazione che mi ha attratto tantissimo. Cioè, anche le foto successive non hanno avuto lo stesso impatto, perché comunque cromaticamente sono, vabbè, delle forme geometriche nette, semplici, però rosse e spiccano tantissimo. Qui sui colori non sono intervenuto per niente. E poi mi piace ovviamente l'agglomerarsi, l'intrecciarsi di tutte queste linee. La parete bianca sulla destra l'ho messa praticamente quasi ai terzi, ok? E ci sono tutte queste diagonali che portano comunque verso l'alto, linee orizzontali, la verticale netta sia della parete a sinistra, a destra, bianca, che del tubo, quello lì, rosso, al centro. Questa mi è sempre piaciuta tanto tra le mie foto, di quelle in cui appunto questo elemento geometrico è presente, e mi piace anche tanto lasciarla a colori. Molte foto del maxi rendono molto, forse più in bianco e nero, ma in questo caso qua anche la differente tonalità dei vari grigi, i neri, i bianchi e il rosso che spezza, mi piace tantissimo. Qui è proprio solo forme ho usato. Non l'hai toccata per niente? Non l'hai post prodotta per? Praticamente per niente, cioè ho aumentato leggermente la nipidezza, forse l'avrò addrizzata leggermente perché ovviamente bisogna, se si usano delle forme così nette, è bene essere abbastanza precisi, cioè se c'è simmetria deve essere una simmetria perfetta, se c'è una linea verticale e si vuole valorizzarla deve essere verticale perfetta, ma piccolissime correzioni, anche perché ero leggermente distante, ero in fondo alla scala, non è che ero salito, quindi essendo abbastanza distante non avevo una distorsione così ampia delle linee e quindi comunque è venuta così com'è, insomma, poi insomma 2011, parliamo di ben nove anni fa, wow, mi sento quasi vecchio quando dico queste cose. Andiamo avanti? E questo è sempre mia, sempre forme geometriche pure. Allora, l'unico cruccio che ho su questa foto qua è, oddio, ve lo devo proprio dire perché è la leggerissima imprecisione nella simmetria, anche se non si vede, cioè andandola a controllare c'è una leggerissima imprecisione nella simmetria, cioè io non ero piazzato esattamente al centro, ma di pochissimo spostato, fondamentalmente perché? Perché c'era un elemento di disturbo che stava su delle colonne, tra due colonne a sinistra e in fondo, quindi o così non la facevo. Io vedo quasi distanza, equidistanti questa parte qua con questa parte qua. Sì, ma la parte in fondo non è perfettamente centrale. Ah, ok. Questo lo dico anche se qua non si poteva vedere fondamentalmente, cioè sto qui a criticare da solo le mie foto, fondamentalmente. Qua è un'altra di quelle a cui io sono molto legato. Questa qua è stata scattata all'Eur, ok? Vicino al Palazzo delle Esposizioni ci sono, attraversando vari palazzi, ci sono dei colonnati, addirittura quei spazi tra quelle varie colonne, non so se adesso è ancora così, ma lì ci passano le macchine, ok? Quindi sono proprio dei passaggi su strada questi qua, non sono solo pedonati. Comunque quella cosa che mi piaceva tantissimo era non solo la rigidità, la formalità delle linee, quanto il fatto che è come se fossero uno il negativo dell'altro, perché per esempio dove c'è l'elemento bianco, chiaro, da una parte diventa scuro e viceversa. Quindi questa cosa qua mi ha tratto tantissimo, infatti la foto l'ho pensata immediatamente in bianco e nero. Ecco, però questa qua è proprio una linea pura. Ecco, guarda, ti posso dire come la puoi notare la mancanza di simmetria perfetta? Non è tanto tra le prime due colonne, se guardate lo spazio che c'è tra le seconde due. Ah, è vero, è vero, c'è più spazio qui a destra, si vede, si vede. Esatto, sì, cioè lo dobbiamo dire perché ovviamente la foto perfetta sarebbe stata una simmetria perfetta, però insomma per me la foto, oltre a esserci comunque legato, però comunque funziona secondo me comunque bene. Ovviamente questa parliamo di una foto di geometria pura, perché il top sarebbe stato che qualcuno passava a un certo punto e avessi incastrato una persona esattamente al centro. Con un solo problema però, che comunque qua ho una profondità di campo molto ampia. Io la persona non so dove passava, se metteva a fuoco la persona forse avrei perso la messa a fuoco più ampia e soprattutto se la persona passava doveva avere un tempo di scatto molto veloce, andando comunque a perdere qualche cosa. Quindi queste, diciamo, queste due che ho presentato sono proprio di geometria proprio pura, cioè ho usato solamente elementi geometrici. Non mi piace usare solamente quelli, però avevo queste due che sono molto arattissime e mi piaceva presentarle, perché di di solito, secondo me, l'elemento geometrico spicca di più se lo avvicini a qualcosa che non lo è, perché questa è una foto comunque piatta, ok? È interessante, ma è una foto fondamentalmente piatta. Se nell'altra c'avevamo delle diagonali che andavano in fondo, davano il senso di profondità, in questa qua la perdiamo quasi. Sì, ci sono delle guinte, si vede la prospettiva che con una via di fuga centrale, però comunque abbastanza piatta. Però la volevo presentare perché ecco, mi piaceva comunque far vedere che comunque magari c'è a chi piace di più solamente mettere le forme così. Assolutamente, assolutamente. E poi sono sempre spunti, insomma, per gli altri fotografi. Se andate all'Eur, trovate questo punto qua, non è che me lo so inventato io, ragazzi, ci si va, cioè dopo il Covid, ci si va, si aspetta che passa qualcuno, certo non sono punti di estremo passaggio, però voi fate finta di niente, portatela ragazzo e ragazzo, lo fate passare là, o marito, eccetera. Ecco, avete fatto la foto? Ok, qua iniziamo a usare le geometrie, però iniziamo a metterci dei contesti diversi. Ovviamente questa è la mole antonelliana a Torino. Questa foto qua l'ho fatto da, mi pare sia la piazza Vittoria Emanuele, la piazza più grande d'Europa, da quello che so, che è vicino proprio al fiume, e c'era un lungo colonnato. Io tra una colonna e l'altra mi sono messo, creando delle quinte perfette per la mole. Questa foto è nata dalla mia esigenza, mi trovavo a Torino e potevo girare solamente una giornata, di ritrarre, fotografare la mole in maniera leggermente diversa dal solito. Cioè volevo trovare una foto un po' diversa, insomma, perché sennò la foto del monumento rischia di essere molto ripetitiva. Ero pure lontano. Eppure col fatto che c'era le due colonne, che praticamente c'è il lato in ombra e un lato illuminato, mi sono messo tra le due, mettendo appunto un lato in ombra e uno illuminato, creando tre fasce di colori. Sembra quasi una bandiera. Ho creato il nero, il blu e il grigio. Quindi ho fatto tre fasce, ho cercato di ritagliarla, di cropparla leggermente, perché comunque un minimo l'ho dovuta aggiustare. Però di trovare proprio tre fasce verticali, precisamente identiche o quasi equidistanti una dall'altra. Ovviamente in realtà non è, non sono proprio equidistanti perché la molle, la fascia blu della molle è leggerissimamente più larga. Perché ovviamente lì c'è il soggetto. Certo. E poi mi piaceva che comunque c'era pure quel taglio diagonale che spezzava di quel palazzo che faceva parte sull'altro lato della piazza. Quindi questa mi piace molto perché è diversa dalle solite, tra virgolette, di quelle che c'è sulla molle. Ho cercato di fare qualcosa di diverso, fondamentalmente. Senza nulla togliere alle altre. Simo, questa è tanta roba, non l'avevo mai vista. Questa è una tua foto che non ho mai visto. Veramente bella. Beh, sì, sono foto... Sai, fondamentalmente ragazzi sono andato a Torino per il concerto degli U2. Sono andato con mia sorella e il giorno dopo abbiamo girato un po' per Torino. Per me sono delle foto del concerto di U2 spettacolari perché mi sono portato dietro a Apex. Sono riuscito a entrarci, lasciamo stare, mancava solo che facevo il ritratto di Bono degli U2 e bene fare dei concerti. E il giorno dopo sono uscito per fotografare a Torino, una città in cui non ero mai stato e quindi non sapevo cosa aspettarmi. Cercavo di trovare linee e forme diverse, hanno fatto anche altre interessanti, ma quella che mi piace più della Mole è questa qua. Molto bella. Molto bella. Ok, qua invece abbiamo... ho incastrato l'elemento umano all'interno delle geometrie. Sempre al maxi questo è, però è l'atrio fuori, quindi prima di entrare fisicamente dentro il museo, comunque dentro l'edificio, ci sono queste installazioni qua, di queste colonne, chiamiamole così, e mi piaceva appunto questa geometria sfalsata che creavano, perché comunque mi piaceva tanto il contrasto che c'erano tra le colonne verticali e quelle messe in diagonale. Quindi mi sono messo là e qui sì, non è un parente, ho aspettato che passasse qualcuno. In realtà era molto frequentato perché comunque, soprattutto nei giorni di festa, perché comunque è un anno di sabato e domenica, quell'atrio là è utilizzato come se fosse un piccolo parco, quindi c'è l'accesso pubblico, sono tanti bambini che giocano, passaggio, è difficile trovare una persona sola. Quindi ho dovuto aspettare un pochetto. In realtà poi questo signore non è solo, aveva la moglie con sé, però io l'ho beccato esattamente al centro mentre le colonne coprivano la moglie. Dietro di lui, sulla colonne esattamente dietro di lui, c'è la moglie, solo che non si vede. Qui. Esatto, esatto, proprio lì. Quindi sono stato abbastanza fortunato. Soprattutto la cosa che mi piace è che il signore, vuoi forse perché è anziano, vuoi per l'attitudine di quello che stava facendo, è leggermente inclinato in avanti proprio come a seguire la linea della colonna. Non è perfettamente dritto. Quindi questa cosa mi è piaciuta tanto. Certo, ovviamente quello che consiglio poi è la fase successiva è stata, innanzitutto l'ho passata in bianco e nero perché comunque dietro c'è un fondale colorato che disturbava tantissimo. Cioè, perdeva il soggetto, cioè dietro adesso uno sfondo, mentre se lo mettevo, se l'avessi lasciato a colori emergevano solamente i dettagli, i colori che frastornavano l'occhio per quanto erano forti sul retro. E poi ovviamente... Il colore in questo caso. Sì, 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 perché le colonne erano grigie, erano grigie. Intanto Alessandro ci dice, la schiena dell'anziano è inclinata come il palo, ottima intuizione. Grazie, grazie. In effetti ho fatto una raffica, attenzione, non è... ci vuole preparazione e anche un pizzico di fortuna, però un minimo preparazione, cioè in un caso del genere, sapevo, io mi ero appostato, sapevo dovrò passare un po', aspettavo dovrò passare un po' di persone, ho comunque messo uno scatto continuo, ok? Scatto continuo veloce, quindi ho vari punti della... del signore e quello che mi piaceva di più però era questo qua. In altri addirittura è anche più evidente, però sì, mi piaceva proprio la posizione in cui si era incastrato lì in mezzo, perché poi ovviamente ce l'avevo abbastanza dritta pure sullo spiraglio quello successivo, come se andava sullo spicchio avanti, però non mi... come anche quello indietro, però non mi sono... No, no, per me non ho visto le altre, però questa qui secondo me è più azzeccata, è più azzeccata. Poi ovviamente ragazzi, mi raccomando, quando ci fanno queste... ecco, io se posso dare un consiglio basato sulla mia esperienza è, mi raccomando, massima attenzione in post-produzione. Questo caso qua io l'ho ritagliata, però se vedete ho lasciato esattamente la stessa distanza dal bordo della foto su una colonna che sull'altra, per comunque esaltare questa verticalità e non dare né uno sbilanciamento a destra e sinistra, né ovviamente distruttura delle linee. Anche qui una leggera correzione della prospettiva ci sta, perché comunque quando si fa la foto tendono a essere storte le linee verticali, perché ovviamente diventa più sfuggente la prospettiva andando più in alto. Vedete le colonne sono molto alte, quindi l'ho aggiustata e poi dopo c'è tanto lavoro, quindi magari sì, bravura o fortuna, questo non lo so, magari un pizzico di entrambi nel realizzarla, però poi ci vuole massima attenzione nel post-produzione queste foto qua, perché il rischio dell'errore... dell'errore, ma della mancata attenzione su alcuni dettagli, ovinare l'effetto totale. Ok, andiamo a quella successiva. Questa che è la rinascente? Sì, esatto. È il palazzo dell'ex rinascente. Adesso mi pare che Zara è diventato il dipenditore, che si trova, e per chi non lo sapesse, in via del corso, vicino a Piazza Colonna, vicino alla Galleria Alberto Sordi, per capirci. Questa geometria qua ve l'ho voluta presentare perché sono partito dalle geometrie pure, in cui non c'era nessun elemento umano o architettonico che si andava a mischiare, fino ad andare a metterci elementi architettonici, poi a elementi umani, fino ad arrivare a questo punto qua, in cui l'elemento umano effettivamente è predominante. Però mi piaceva molto questa sensazione di linee che convergevano comunque, al di là della ripetizione di questo finto arco che vedete, che delimita ogni piano. Però le linee qui, non sono state attrizzate, tutte le colonne che vedete ai lati, puntano comunque verso il centro basso della foto. Quindi mi piaceva tantissimo questa foto qua. E ho voluto... Questa è perfetta così. In realtà poi questa qua non ho dovuto neanche modificarla granché, mi è piaciuto di più metterla in bianco e nero, perché ovviamente immaginate un negozio di abbigliamento, c'era una gamma di colori vastissima. Certo. Che andava pure bene, perché comunque sarebbe stato un pattern molto interessante. Però comunque non si sarebbero esaltate le linee, che era invece quello che volevo io. Esatto, può distrarre, è vero. In questo caso qua è un elemento umano che riempie completamente la foto, però le linee per me qua sono l'unica, l'unico vero protagonista. Ed è una foto, ragazzi, facilissima da fare. Cioè, in realtà, non ero entrato per fare la foto. Io stavo andando in giro con la Reflex, sono entrato con un'altra persona dentro il negozio per andare a vedere qualche cosa. Comunque stavo facendo una passeggiata a via del corso. Ecco là che dal cornicione, con quello che vedete che è uguale su tutti quanti i lati, del terzo piano, primo, secondo, del terzo piano, sì, mi sono affacciato e ho visto questa geometria e l'ho semplicemente fotografata. Niente di difficile, niente di strano, niente di... originale, tra virgolette. semplicemente mi ha catturato la mia attenzione. Quindi questo per far capire, ecco, sempre per un mio consiglio, naturalmente, che comunque le geometrie è facilissimo trovarle in contesti urbani, praticamente dappertutto. Certo. Zara, via del corso. Non è che siamo andati, non lo so, a Hong Kong. Cioè... A New York o chissà dove, insomma. Noi ce ne saranno sicuramente tantissime, però se ne possono trovare comunque interessanti. Quell'altra era Torino. Quest'altra... La prima e la quarta erano il maxi. Ribadisco, tutte cose abbastanza facili da trovare se si vuole cercare queste linee qua. Io personalmente le cerco tantissimo. Bisogna però anche portarsi appresso lo strumento, perché tu giri sempre con lo strumento. Eh no, 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 lo dico perché non è cosa da poco, perché... No, è vero. Io ho l'abitudine, il sabato e la domenica, non lavorando, esco e faccio i miei giri normali, magari vado in libreria, magari vado, sì, a comprare una maglietta, i giri che facciamo chiunque. Ma io il sabato esco e metto la Reflex dentro il portabagagli. Ok? Perché la lascio lì dentro mentre sto in macchina. Poi non è che la lascio lì dentro mentre giro. Se no è la fine. No, anche perché morirei di infarto e di ansia sapendo che la macchina è la macchina di dentro. Perché se no, la macchina è la che c'è. Mai farlo. Comunque mi metto sempre la macchina, la borsa, la macchinetta a tracolla e comunque vado in giro con la Reflex. Anche se comunque in realtà ammetto che il sabato e la domenica io normalmente, sì, faccio dei giretti, ma comunque in un paio di posti voglio andarci proprio per vedere se c'è qualcosa interessante da fotografare. Quindi non è una casualità avere la macchina fotografica o un'abitudine. E' proprio perché ero in giro per via del corso perché volevo fare delle foto. Adesso non ricordo nel caso specifico perché ero andato là quel giorno. Perché comunque al centro ci vado spessissimo per trovare spunti fotografici. Però se non ce l'hai appresso e non si fa. Simo, arrivano allora un paio di commenti. Il primo di Giacomo che dice sarebbe stata bella con i tempi lunghi e la gente tra virgolette fantasma in movimento ma è ottima anche così. Non l'hai potuta fare credo perché avevi soltanto la macchina non un cavalletto anche se magari potevi azzardare. Sì allora Giacomo ti dico non è una brutta idea è una bella interpretazione la tua. Il problema vero è uno solo vabbè sì non avevo il cavalletto quindi non l'avrei comunque potuto realizzare. Il problema è che io mi sono sporto dal cornicione per poter fare questa foto. Quindi con il cavalletto avrei dovuto metterlo molto molto in alto alla massima della sua stensione e puntata poi verso il basso. Ora dentro Zara col cavalletto non ti fanno entrare. No ma non ti fanno fare la foto perché in realtà dentro alcuni negozi lo specificano pure che non so quali sono proprietà delle marche non ho idea. Però in questo caso qua mi ero sporto pure davanti quindi farla col cavalletto credo che se tu vuoi replicarla non riusciresti a farla perché ti fermerebbero però la tua interpretazione è molto bella. Sì magari in un contesto che lo permette sarebbe carino provare anche quella avrebbe dato un senso più di posto e forse dico forse come l'interpreterà Giacomo sarebbe stato pure da provarla a colori perché magari i flussi diventano più colorati diventano più interessanti non è una brutta interpretazione anzi solo che rischia a volte cascare. e Alessandro invece dice un po' più contrastata l'hai provato? Un filo sì un filo sì però mi piaceva l'aspetto un po' caotico tra virgolette allora anche questa è un'interpretazione molto intelligente quella d'Alessandro nel senso che sarebbe comunque venuta molto bene contrastata avrei perso naturalmente più dettagli delle persone o degli oggetti che avevano in mano eccetera siccome che in questo caso qua la mia interpretazione sì ho messo delle linee ma in questo caso qua per me era il brulicare dello shopping delle persone perdere quel dettaglio a favore delle linee in questo caso qua non era l'interpretazione che volevo dare io come ho detto prima se l'avessi fatta solamente con le linee avrei sicuramente apprezzato di più l'interpretazione che dava Alessandro in questo caso qua mi piaceva che le persone si vedessero tant'è che se vedete i tempi sono abbastanza veloci con cui l'ho scattata io ero al buio cioè al buio scusate è comunque un luogo chiuso ci sono molte vetrate molte finestre quindi comunque il luogo è relativamente illuminato però ho usato un contempo di scatto abbastanza veloce perché le volevo proprio fissare e volevo proprio vedere tutte le formichine che compravano tra l'altro io in quel momento non volevo comprare niente quindi ero un po' estraneo a quella sensazione e vedevo tutti quanti che si si affollavano chi su un banco chi sull'altro io ho detto ma io voglio fare le foto sai che c'è le formichine del fotografo ovviamente io pure sono una formichina non voglio offenderli io pure sono una formichina che vado però ribadisco è una bella interpretazione ma non era quello che volevo io però non è sbagliata assolutamente c'è ragione Alessandro tu per esempio Fabri l'avresti contrastata molto di più tanto di più e allora non lo so perché il pensiero che hai fatto te è un pensiero che condivido assolutamente nel senso io contrasto quello che si può contrastare in questo caso sposo appieno quello che hai detto contrastando avresti perso veramente dettagli non 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 credo non credo avrei esaltato forse un filo avrei esaltato di più le linee però quello sì non lo so forse avrei accentuato forse un po' più le luci ma non credo guarda hai dato un'interpretazione che l'avrei fatta pure io così sinceramente non avrei contrastato di più però ci sta ci sta comunque per esempio è una cosa che quando sono andato in post produzione pure io me ne sono un pochettino chiesto come migliorarla eccetera però poi fondamentalmente sai che c'è come dice Alessandro come dicono tutti quanti non è che sono poi fondamentalmente sbagliate è che diciamo che ognuno va pure un po' gusto fondamentalmente assolutamente l'importante è che magari piace la foto quella è la cosa più importante a me piace però vedi per esempio mi hanno detto che si poteva dei interventi da fare quindi questa è una foto stupidissima e vi voglio far vedere perché vedete ho addirittura ero con una piccola Fuji X10 mi trovavo in Giappone e c'erano queste scale mobile che andavano su e giù c'era una scala mobile che saliva e scendeva e ci trovavo e mi trovavo di fronte a uno specchio insomma era un palazzo di otto piani e fai su magari tu devi andare a comprare una cosa al quinto piano fai su giù su giù su giù e tutte le volte vedevo questa qua insomma ho fatto le scale mobile almeno tre volte per riuscire a scattarmi esattamente in mezzo a quelle due linee come a dire come a dire l'ho voluta farvele vedere come a dire che siamo talmente malati noi appassionati di fotografia che manco i selfie ci facciamo normali cioè io lo devo fare strano anche Alessandro dice anche a me piace mi piace il taglio quadrato mi piace il taglio quadrato sì in realtà perché c'erano altre persone sopra e sotto però tu queste cose non le devi dire non le devi dire no devo dire no sono stato bravissimo nel pensare il taglio quadrato no no c'erano le persone l'ho voluta tagliare esatto l'ho pensata quadrato l'ho pensata quadrato assolutamente andando avanti Ann Anselmi ci dice è bella riferita alla foto precedente o quella dove il tuo autoritratto o quella ancora no non credo che sia l'autoritratto credo che sarà quella all'ex rinascente all'ex rinascente qua ci troviamo questa è bella mi piace come? questa è proprio bella mi piace grazie questa l'ho scattata all'abbazia di San Galgano e praticamente sono stato lì tanto tanto tempo per aspettare la singola che la singola persona una singola persona si piazzasse ai terzi della mia inquadratura e niente qua sono stato colpito naturalmente dalle linee che convergono verso il centro questo triangolo in alto e queste è tutta una figura geometrica questa abbazia eh sì ci stanno cerchi triangoli linee convergenti la difficoltà è stata praticamente attendere di solito queste foto le foto che ho visto di San Galgano tutte fatte da per terra col fisciai quindi hai praticamente quasi tutta questa basilica all'interno dell'inquadratura non sono un amante del grandangolare scatto quasi sempre o col 50 minuti col fisciai non sarebbero venute nessuna linea dritta sarebbero venute nessuna linea dritta no 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 non dritta però sai c'è questa fissa del fisciai del prendere praticamente tutta quanta la struttura ce ne stanno tantissime di foto io sono più amante del 50 mm ultimamente sto in fissa col 35 quindi eh l'ho pensata così e l'ho appunto realizzata in questo modo ma ti dirò a me piace di più ma che ora era quando hai fatto questa foto che luce particolare questa o quella prima di San Galgano no quella prima quella della pazzia calcola che non ho Lightroom aperto quindi no vabbè più o meno era mattina pomeriggio ma credo mattina credo mattina credo fosse mattina c'era un cielo abbastanza velato immagino perché non vedo delle ombre fortissime no 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 assolutamente sì 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 ehm sì ma guarda l'orario deciso non lo ricordo sinceramente questa mi sa che ha colorito e perdeva tantissimo sì già come diciamo questo posto odio quando trovo quel cielo così piatto però il bianco e nero allevia le mancanze di nuvole eh sì guarda in realtà ce n'è una qui di nuvola però sì certo sarebbe stato bello proprio con magari che una nuvola si piazzasse qua questo è il mio primo pensiero Simo eh scusa quando uno va a fotografare non mi dire che anche tu lo fai uno c'ha no arrivi lì con un'idea e poi immediatamente dici ok voglio che una nuvola passi qui o che un aereo o che un uccello o che un qualche cosa forse una settimana dovresti fare una settimana d'appostamento per beccare un oggetto ma diciamo a bene a beneficio di quelli che ci seguono diciamo che poi le foto che vedete online più delle volte che magari dentro il cerchio là ci passa che ne so un'aquila con le ali spiegate è tutto photoshop perché ragazzi ah c'è c'è chi lo fa certo sì ci sta eh non lo sto criticando no 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 in realtà in realtà se uno volesse potrebbe tranquillamente appiccicarcelo lì sopra un altro cielo con photoshop in prosproduzione ce lo potevi mettere un cielo interessante però non sarebbe stata quella foto addirittura avrei saputo una foto proprio di un altro posto esatto io mi sto amo Sare Lightroom amo Sare Lightroom perché non mi dà quella cosa del fotoritocco no del fotoritocco scusa della del fotomontaggio se così lo possiamo chiamare no quindi andare è un fotomontaggio ad aggiungere o togliere troppe cose lascio lascio quello che c'è quello che ho ma secondo me è pure inutile perché comunque la foto è bellissima quindi cioè grazie grazie non serve per forza un cielo fantastico se c'è bene se no certo ci spostiamo in Giappone qua mi trovavo in quel di Kyoto e niente sono stato capitato praticamente da questo segmento di un palazzo non ricordo sinceramente credo fosse un palazzo in riva un fiume in riva il fiume e praticamente tutti questi rettangoli che ci regalano ogni rettangolo ci regala una vita una scena una situazione con vari attori con vari protagonisti tra l'altro all'interno di questi rettangoli abbiamo altre figure geometriche che si che si ripropongono mi piace tantissimo sono affezionato perché appunto mi dà l'idea del in Giappone si dice Nici Joe cioè sarebbe il la vita quotidiana il quotidiano quindi da lontano ero quasi l'osservatore di tutte vite quotidiane di tutta la come posso dire la quotidianità che si andava a come posso dire a realizzare che si andava insomma a nascere a crescere durante durante la giornata questa l'ho scattata di sera grazie alla reflex di mio fratello che mi ha prestato perché con la D610 questa non l'avrei scattata era sera molto tardi non non avrei scattata con la D610 perché le luci interne sono accese allora mi metteva a fuoco Simo però meno male che Federico aveva la DF e la D3S che ho detto fammi fare uno scatto con la D3S quella con la D610 l'ho buttata quella con la D3S me la sono tenuta guarda sta foto è semplicemente fantastica questa qui cioè pure questa io parlo di quella del Giappone ah per me è proprio splendida punto grazie ti ringrazio l'ha apprezzata anche il maestro il maestro l'ha apprezzata pure il fatto che come la potrasti tu addirittura qui è proprio sì qua ci sono andato giù pesante è vero ha ragione Daniela sì è giusto Daniela è vero è come vedere una grande casa delle bambole con le varie stanze vedi non avevo dato questa interpretazione a me piace tantissimo sì poi io quando vado giù col contrasto ragazzi il problema mio o non so a che dirvi io vado giù pesante forse troppo la levetta attacca al massimo eh no le leve le curve qui per esempio nella foto quella dell'abbazia non era affatto altamente contrastata qui sì no non è che lo fai quella dell'abbazia no quella dell'abbazia non l'ho voluta contrastare più di tanto mi piaceva leggera però qua Simo che ti devo dire qua mi piace paradossalmente no qua è bello perché ti fa capire che notte separa guarda che bello cioè una silhouette con diciamo lo sfondo lo sfondo illuminato tra l'altro io questa foto perché sono uno scemo l'avevo accantonata perché avevo pensato no c'è troppo rumore questa foto non rende perché c'è troppo rumore ma ben venga ma meno male che a distanza di tempo me la sono tenuta perché a me piace tanto e ben venga che ci sia questo rumore adesso vado quasi a caccia di rumore digitale di rumore vabbè fotografico passiamo avanti questa foto probabilmente l'avete già vista a Roma l'ho scattata a Roma Palazzo Barberini la scala elicoidale che c'è che c'è all'interno e qui vabbè figure geometriche ne abbiamo ne abbiamo abbastanza insomma quindi non ho avuto modo di fare la prova che mi hai detto te di far partire questa parte della spirale è qua quindi capovolgere andare un po' se diciamo che la cosa era che se la inclini non la metti se la inclini inizi a mimare la sezione aurea la farò lo farò mi sono non ho avuto modo lo vedo più come un esperimento perché secondo me la foto funziona benissimo così qui è un tributio di geometrie linee a parte che vabbè qui vabbè se su quella del Giappone dobbiamo avere l'occhio tuo qua è tutto l'architetto che ha fatto il lavoro però però io non spettavo perché la qui mi sono limitato a scattare non è che sono stato sdraiato una ventina di minuti perché stavo col 35 millimetri qua forse un grandangolare era meglio la scelta migliore stavo col 35 millimetri e per prendere una porzione maggiore della scala mi sono dovuto sdraiare mettermi quasi sotto perché sotto c'è una sorta di pozzo quindi mi sono messo ancora più giù per poter scattare in alto così quelli che passavano mi lanciavano delle monetine ho detto questo qui non sta bene assolutamente non è bellissimo solo dell'architetto ci hai messo pure bell del tuo insomma sì qua ci troviamo galleria palazzo sciarra galleria sciarra sempre Roma sempre Roma praticamente una traversa di via del corso anche qua non c'è niente di mio se non la fortuna di aver trovato un orario anche qua non ricordo l'ora di scatto dello scatto la fortuna ha voluto che praticamente passasse la luce e poi col mio solito contrastare enormemente questa porzione ce l'ho bella diciamo una piccola porzione in luce e tutto il resto in ombra a me piace tantissimo figure geometriche quante ne volete anche qua beh sì qua era impossibile mettere il come posso dire una persona insomma anche a meno che non ti sdraiavi e ti calpistavano in quel caso l'unico momento ero sdraiavato col 24 mm avevo pensato come posso inserire l'elemento umano qua sai uno che ti passa ce l'ho ancora qualcuno che si affaccia dalla finestra è l'unica cosa eh penso sia l'unica perché non è possibile prendere uno che ti passa vicino credo sia infattibile che poi io non sono ancora non sono riuscito ad andare a fotografare perché mi pare che è aperto da poco forse perché per più di un anno è stata chiusa lo sai oddio questa qui l'ho fatta l'hanno ristrutturata dentro quello sì e non ricordo quando l'ho fatta eh sono andato là c'era una sbagliata sì due tre anni fa credo due anni fa due anni fa 2018 perché nel 2019 ho cercato di entrare però non sono uscito grazie Giacomo taglio di luce diagonale sulla parete sotto tempismo perfetto beh sono stato anche fortunato perché non sapevo che la luce passasse e tagliasse in quel modo insomma quindi sono andato lì ho trovato questo questo taglio di luce mi sono messo sdraiato ho aspettato che le persone facessero le loro foto perché è abbastanza frequentata come come zona come come posto abbastanza frequentato e quindi mi sono messo lì ho detto ok adesso tocca a me sdraiato tipo il quattro di bastoni a fare la foto in conclusione in conclusione allora vi dico subito sì lo dico con il cuore spezzato non è simmetrica il signore che ho seguito tra l'altro si doveva mettere leggermente più a sinistra non mi andava di dirglielo perché poi sarebbe stato lo potrei dire scusi si può mettere un po' più di là per favore non mi andava non mi andava sinceramente qua stiamo sempre lo so è bravo però qua stiamo dentro il vittoriano a piazza Venezia naturalmente e qui anche forse la foto con più elementi geometrici che ho perché qua abbiamo di tutto abbiamo gli ottagoni non puoi contare perché così non me li ricordavo quanti sono poi potete dire poligoni va bene perché poi ci stanno i sagoni lì sotto i poligoni dai i poligoni qua abbiamo delle righe per terra qua abbiamo delle linee questa qui forse è la fotografia più geometrica che ho ma ti posso chiedere una cosa su questa foto era proprio necessario mettere la persona al centro in fondo c'erano due elementi le due statue che stanno proprio ai terzi l'hai messe benissimo che comunque non ti dico cioè sono loro l'elemento che spezzano forse la persona non serviva neanche sai allora mi hai letto nel pensiero perché una delle cose che voglio fare appena ci sarà possibile tornare a fotografare è fare la stessa identica foto senza persone perché perché fondamentalmente come hai detto te le statue possono essere i soggetti della della fotografia cioè pure gli angeli ai tuoi lati guidate anche dalle dalle diagonali che abbiamo qua in alto quindi queste diagonali che vanno insomma a colpire i soggetti non lo so stavo in un momento di di street quindi l'elemento umano volevo che ci fosse comunque sia sempre un connubio architettura aspetta 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 c'hai ragione nel senso quella con l'elemento umano là è una ripetizione quindi va benissimo però dov'essere questa foto quasi è talmente precisa questa foto talmente geometrica che ti servirà proprio la simmetria assoluta si si vede da fastidio dimmi le statue sono rivolte verso di te o verso la parcolata sono di spalle sono di spalle vedi perché se erano rivolte verso di te non le avrei neanche contrastate ah no beh certo no 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 sono di spalle sono di spalle volevo fare la silhouette praticamente del signore in questione che dire praticamente l'ho voluta far vedere seppur la reputo una foto sbagliata perché come i grandi maestri ci dicono la simmetria o è perfetta o non è simmetria quindi in questo caso dà veramente fastidio il soggetto in questione l'uomo che non è perfettamente in simmetria con il resto della foto però l'ho voluta far vedere appunto per dimostrare questa cosa che le foto un consiglio o le fate perfettamente simmetriche oppure rischiate che ci siano critiche pesantissime e poi perché si presentava tantissime figure geometriche quindi era calzante praticamente con la con la puntata di oggi però ammetto pure che non voglio salire in cattedra ci mancherebbe ci sono pure scuole di pensiero che dicono che comunque proprio in contesti super simmetrici così lo inseriscono apposta un elemento asimmetrico sai che spezza proprio però deve essere totalmente asimmetrico cioè da quello che sì forse un altro passo ancora di più forse deve essere ancora più asimmetrico magari si doveva mettere qui per dire o magari doveva passare magari qua ma no però ecco già lì sui terzi ma quanto dà fastidio hai diviso la foto in tre terzi da una parte della statua dall'altra in mezzo alle due magari ancora più spostato quindi sai hai visto i tre i tre blocchi quelli sotto che fanno la balaustra ecco invece che stare a quello centrale doveva stare a quello di destra magari là avevo pensato pure di fare il timbro clone e spostarlo ma era un delirio ho detto no no fai prima fai prima di tornare al vittoriano guarda fai prima di tornare al vittoriano sì assolutamente faccio prima guarda perché avrei dovuto ricostruire completamente quello che c'era dietro ci ho provato l'ammetto ma era veramente un lavoro mastodontico e ok abbiamo finito con le nostre foto geometrie ecco qua con i nostri bei faccioni aspetta perché nel frattempo ha scritto Giacomo dicendo non è sbagliata può disturbare la figura perché è quasi nel mezzo invece doveva essere proprio di lato secondo me quel senso di manca poco è quello che ti può dar noia è quello è quello che dicevamo quello che dicevamo esatto giusto Giacomo o è completamente spostato la faccio rivedere o è completamente spostato magari qua o magari qui come diceva Simone qui o qui insomma praticamente ma che praticamente manca quel centimetro mancano pochi millimetri mancano affinché si trova praticamente perfettamente in simmetria e quindi sì dà fastidio veramente la prima cosa che vedo è che non è perfettamente simmetrico pazienza ci torneremo insomma è una scusa è una scusa per riandarci esatto 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 allora Simo noi sappiamo che domani ci dovrebbe essere l'appuntamento con la Cina giusto il terzo episodio sì allora facciamo sì facciamo un quadro generale allora la prima cosa che voglio dire scusa ti interrompo è quella di oggi è stata solamente una delle puntate in cui vogliamo affrontare questi elementi qua ad esempio io e Fabrizio li ricerchiamo particolarmente nelle foto quindi ne abbiamo programmati altre avevamo tante foto e volevamo presentarvi però non si può parlare per fare maratoni 10 foto 50 minuti però ci interesserebbe tanto avere le vostre foto su questo argomento qua cioè per esempio avete in molti hanno dato degli spunti delle interpretazioni interessantissime componenti diversi da quelle che magari daremo noi non è detto che non possiamo imparare anche noi dalle foto che ci mandate dal vostro occhio vorremmo fare una chiacchierata insieme a voi su questo quindi c'è noi stiamo qui presentando le nostre foto ma non perché siano perfette tant'è che avremmo fatto vedere qualche foto delle nostre sbagliate lo so adesso sono solo perfette le foto però vorremmo vorremmo affrontare questo argomento che ci piace particolarmente soprattutto a me a Fabrizio e mandateci le vostre foto perché la settimana prossima è probabile che ne faremo un'altra solamente su questo argomento e chi vuole farsi una chiacchierata assieme a noi su questo argomento mandarci le sue foto ben volentieri tanto presenteremo altre foto io e Fabrizio però la cosa che ci interessa di più è vederne di nuove di diverse vostre se possibile poi cambiando argomento invece domani si ritorna in Cina per il terzo appuntamento ok io non ci sono mai andato ma mi stanno non pazzire con quelle foto adesso che uno non può piaggiare poi ancora di più la sente la botta invece giovedì se non ricordo male abbiamo un ospite facciamo foto in compagnia con un ospite che non vi riveliamo ancora ma tanto nel post ci sarà quindi ci faremo una chiacchierata assieme ecco Massimo ci sta giusto dicendo che domani è alle 18 e 30 30 e 30 adesso appuntamento con la Cina grazie Massimo per per la specifica guarda ha messo tre bandierine cinesi non due tra l'altro 18 maggio riaprono i musei sì è vero me lo so già appuntato speriamo di avere la possibilità di andarci senza la calca senza il timore di ma io credo che non aspetta attenzione secondo me scusa Fabrizio c'ho sto viziaccio di interromperti secondo me ci saranno ingressi contingentati ci saranno ingressi contingentati come faranno per esempio sulla metro quindi secondo me è una buona occasione per andare a fotografare i musei semi vuoti non che i musei siano sempre pieni in Italia eh ammettiamolo però detto questo magari certe sale più grandi certi ambienti che di solito sono un pochettino più costipati normalmente io credo non solo dal 18 nei prossimi mesi non vedranno un enorme maggiore fare una segnalazione comunque stiamo dicendo che giovedì avremo un appuntamento un appuntamento con foto in compagnia con un partecipante anzi una partecipante che ci ha inviato le sue foto e le vedremo insieme e poi sabato abbiamo il Giappone seconda torniamo a terra del sollevante esatto quindi rivedrete di nuovo le nostre facce quanto meno le mie di Fabrizio per venerdì non lo so vediamo se troviamo qualche cosa bene se no tiriamo fino a sabato e poi vediamo comunque tutte le informazioni dimmi no volevo dire a questo punto venerdì c'è un buco se avete delle idee se avete delle richieste mandateci un email mandateci un email magari che ne so il bianco e nero la post produzione le foto la naturalistica la ritrattistica interagite interagite mandateci le mail a parte delle vostre foto anche se avete delle richieste appunto per delle puntate specifiche tematiche chiedetecelo noi siamo qui apposta se poi ci mandare il mio foto ma ci mandare interrotto no no dicevo che comunque ovviamente noi come vedete a volte in alcuni giorni spostiamo la programmazione a 18 o a 18 e 30 cerchiamo di non di non andare in corrispondenza della cena e quindi magari guardate sul sul canale di facebook per vedere gli orari volta per volta più o meno sempre questi gli orari delle nostre live se mettete se seguite se vi iscrivete al canale youtube e mettete la spunta sulla campanellina vi arriva direttamente la notifica quando stiamo andando in diretta bravo simo su youtube e niente che dire potrete rivedere le live che vi siete persi o se volete partecipare o se volete anche solo darci dei commenti dopo che la live è passata se commentate sulla live su youtube noi lo vediamo e possiamo rispondere anche se è il giorno dopo quindi sempre una foto o magari vi ricordate adesso che la mia foto vi ha fatto cagare e me lo volete dire ditemelo tranquillamente non vi bagniamo tanto no 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 siamo aperti a ogni critica siamo aperti a ogni interazione ragazzi ricordatevelo non siate timidi non siate timidi Simo ci concediamo come no ragazzi non vi dico buona cena però buona serata a tutti quanti salutiamo li ringraziamo per aver partecipato per aver messo il like per averci grazie ragazzi dato spunti alla prossima ciao a tutti quanti ciao ciao